e comunque è stato un esercizio straordinario, ho applaudito e abbiamo avuto la fortuna di rivederlo anche al replay, ci siamo spostati ora alle parallele di scena all'Olanda, questa volta l'Olanda abbiamo già visto Evi Nessen, questa volta è il turno di Laura Van Leven, buona prova, curiosi anche i corpetti che usano, abbastanza elasticizzati, purtroppo l'esercizio viene macchiato da questo errore, quindi deve riprendere la prova Laura Van Leven, come detto alla fine spazio alle premiazioni, spazio anche alle classifiche, classifica squadre, la classifica individuale Signores, che comprende ovviamente la somma dei punteggi che singolarmente le giurie danno alla fine degli esercizi, anche ovviamente la classifica dell'individuale Juniores.